Bentornati in Giappone ragazzi oggi siamo a Shiodome e come avrete già visto dal titolo del video ci sono cose belle a rimedere zona famosa per grandi grattacieli grandi strutture ma soprattutto per roba di Miyazaki quindi VAMOS! Allora a parte che ho trovato questo ristorante qua che si chiama buco di muro e mi ha fatto un attimo specie ho detto oddio oddio ho letto male no è buco di muro per fortuna io sono veramente open mind ma delle panchine del genere ma che senso hanno ma c'è anche il sederene s'eretrotto ma che cos'è io manto senti i pad c'è ma chi è venuto in mente di fare delle panchine del genere che poi qua sono poche vabbè là ci stanno i bambini ma c'è ma che senso hanno e finalmente ci siamo ragazzi eccolo qua ma che figata è la cosa bella è che è pienissimo di dettagli dappertutto cioè è tutto in stile steampunk c'è tutta questa struttura tutta sta roba cioè non sai dove guarda mille mila ruote zampe cose che si muovono e spettacolare allora finalmente ci siamo adesso alle 3 parterà tutto il movimento perché si la cosa figa di questo orologio è che appena scattano l'orari predefiniti parte tutto il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.